Cambiamo pagina adesso, in attesa di nuove piogge, il momento della conta dei danni dopo il maltempo degli ultimi giorni. La Liguria chiede il riconoscimento dello stato di emergenza, in Veneto ancora frazioni isolate nel Bellunese. Allora sentiamo Francesca Sancin. Sembra uno scorcio da cartolina il mare di Portofino, ma a far da cornice alle onde qui c'è l'asfalto squarciato. Dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito l'Italia causando 12 vittime, la strada per Santa Margherita Ligure resta interrotta, semplicemente perché per ampi tratti l'asfalto quasi non c'è più. Forti danni anche a Rapallo, dove la forza delle onde ha trasformato il porto in una distesa di macerie. In Liguria l'allerta resta arancione, rossa in Trentino, forti danni nel Primiero, alberi sradicati, allagamenti, tunnel e strade interrotte. All'erta rossa anche in Veneto, dove si contano i danni. Per oggi le piogge hanno dato tregua, ma lo scirocco atteso domani dovrebbe portare nuove precipitazioni. Molte le strade ancora interrotte, i comuni isolati. 47.000 famiglie senza elettricità nel Bellunese, 15.000 nel Vicentino. L'Enel riferisce di avere sul campo 1.500 uomini con 500 gruppi elettrogeni. Anche in Valtellina, sullo Stelvio, 193 persone sono bloccate in alberghi e residence. Sotto osservazione anche corsi d'acqua, a cominciare da Adige, Piave, Po e l'acqua alta a Venezia, dove oggi splende qualche raggio di sole, ha lasciato il segno pesantemente nella Basilica di San Marco. Tre ore in immersione hanno avuto sui mosaici delle pavimentazioni un impatto paragonabile a danni di invecchiamento. Ferite naturalmente anche al patrimonio boschivo dalla Valbadia all'Appennino e all'agricoltura. 150 milioni di euro di danni in tutta Italia, secondo Coldiretti. Nuovo peggioramento del meteo atteso per domani con temporali che insisteranno sul nord-est. Nubi da stasera anche su Alta Campania, Lazio, Toscana, Emilia e Umbria.